C'è un uomo come Giulio? Muochiamo. Vi è che l'aspettiamo qua. Mettiamo se a sede. C'è lei una sigaretta? Nazionali. È uguale. Pensate a un uomo come Giulio con l'abilità che c'è? Guardate come si è ridotta a vivere. E con quella disgraziata? Le donne sono la rovina dell'omini. Ciao. Ciao Giulio. Vengo pure io? No, tu resta qua. Ciao. Chi è? Questo è Renato, quello che lavora al mattatoio. Conosce tutto. Guarda un po' com'è finita la camicia nera. Ma ci siamo già visti? No, questo non c'è stato mai in galera. Sotto la naia, in Albania. Stavo imbarcato, facevo la scorta lì con voglia. Deve se stavo da quei parti. Ma me ne ricorderò. Io c'ho una memoria di ferro. Andiamo ragazzi. Andiamo. Ciao. Oh, Giulio. Che vuoi? Ritorni stasera. È chiuso.